Buongiorno a tutti, siamo in una pausa dalle prove di Campanello di Donizetti e Cambiale di Matrimonio di Rossini. Sono due opere stupende, la prima sarà il 3 maggio e andremo avanti fino al 17 maggio. Questo è un appuntamento imperdibile perché sono due opere molto divertenti, uscirete con le lacrime agli occhi, sono anche molto brevi e quindi passerete due ore in totale spensieratezza. Per non parlare del livello della produzione, siamo nel Teatro Lirico di Cagliari con orchestra e coro del teatro che già conoscerete e abbiamo dei cantanti che debuttano giovanissimi, questo sarà anche il mio debutto in questo teatro e quindi è un'emozione non solo doppia ma tripla e anche la mia prima volta a Cagliari, quindi è un grande piacere essere qui, vi invito numerosi bambini, adulti, queste sono opere per tutte le età. Quindi venite a divertirvi con noi, vi aspettiamo in teatro alla prima e il 3 maggio. Grazie. 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 Grazie.